Ho una barba da esistenzialista, come puoi trovarla a Saint-Germain-de-Pierre? E i capelli da naturalista e due lunghi baffi, molto de modè. Ma ho incontrato una ragazza sul metro e una grave decisione prenderò. Ma ho incontrato una ragazza sul metro e una grave decisione prenderò. Forse sarà segnosa e pur chissà sorriderà barba, capelli e baffi per farmi bello. Mi taglierò, poi con un fiore rosso all'occhiello ad aspettarla andrò. Certo più facilmente senza quei baffi a punta in su, non potrò dire timidamente che amici ormai del tu. Alba, capelli e baffi per farmi bello mi taglierò, poi con un fiore rosso all'occhiello ad aspettarla andrò. Certo più facilmente senza quei baffi a punta in su, non potrò dire timidamente diamoci ormai del tu. Certo più facilmente senza quei baffi a punta in su, non potrò dire timidamente che amici. Grazie a tutti.